Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mattial26 a quest'oggi siamo in un video un po' più diverso dal solito perché ho acquistato il mio primo drone, il DJI Mavic Mini con la versione Combo, che è in dotazione oltre al drone e al telecomando ci sono tre batterie poi c'è il caricabatterie e il paraeliche e la scatola per mettere tutti insieme bene, ora andremo ad aprirlo insieme bene, ecco qua la scatola che c'è al suo interno adesso andremo ad aprirla qua dentro abbiamo il drone, il telecomando come ho già detto prima e il caricabatterie con tre batterie questo qua è il drone, il drone più piccolo che fa la DJI da 249 grammi andiamo ad aprirlo ecco qua il drone, questa è la fotocamera che togliamo poi lo specchio questo qua è come si presenta il drone e qua nel lato c'è scritto 249 grammi adesso lasciamo un attimo da parte poi qua abbiamo il telecomando insieme al telecomando vengono dati questi tre cavetti in base al telefono, io che uso l'iphone userò l'attacco lighting che attaccherò abbiamo collegato il mio telefono al telecomando e poi c'è la nuova app DJI Fly dove qua c'è proprio l'applicazione dove connetti il drone e poi sei pronto a fare mentre qua abbiamo il caricabatterie e qua abbiamo le tre batterie date in dotazione alla combo con la combo e poi dimenticavo che oltre a tutti questi accessori ci sono anche le paraeliche che sono dentro la scatola bene, ora non ci resta che provarlo e vi lascio delle prove del drone bene, ora proviamo a fare decollare il drone insieme decolla ok prende l'app e dovrebbe alzarsi una piaccia al pezzo qua un metro e mezzo da solo e poi con il telecomando con la destra dal su va poi giù invece qua poi avanti indietro di fianco destra e sinistra ok adesso proviamo un po' il drone e vi lascio alle riprese ci vediamo in un prossimo video mi raccomando iscriviti al canale lasciate un bel commento e lasciate un mi piace al video insieme a tutti senti a parlare la nostra stessa poi in un'epoca vediamo in un'epoca partite all'epoca partite all'epoca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.